No, giusto, becca l'ossi per prima, perché prima le signore, poi... Eh, giusto? Prego, la cosa è preparata. No, scherzata, prego. Ma, ma, per Milito, c'è l'unico vero principe, qual è il tuo ricordo più bello all'Italia? Veramente sono tanti, per fortuna sono tanti, tanti ricordi bellissimi, è difficile anche le scelte uno. Sicuramente la notte di Madrid sarà indimenticata per tutti. Scendiamo la notte di Madrid. Benvenuto. Domanda per tutto tra, questo Cristiano Brescia dice, si permette di fare tanti gol all'Aiuda di una cosa? Mi raccomando un gol. Fermato. All'inizio tocca a te. Speriamo di iniziare più di questo partito. E il gol da un po', si vede chi è che lo fa. Hai ragione, hai ragione, è una cosa che vince contro le squadre che contro le altre. Andiamo avanti, non zani. Speriamo.